Allora, oggi siamo su Fasmo, Fobia Dunisiani, eccoci, ah siete contenti di vedere un altro episodio Io sono anche con un amico questa volta, perché la scorsa volta ero purtroppo completamente da solo Che brutta cosa che era, ho giocato da solo, Samu veramente è stata una cosa orribile E c'è anche Fede, una commentatrice, hai la chiave? Salve Ah, l'ho scordato Eh, ti sei scordato, in realtà anch'io mi sono scordato, quindi non ho scusanti E comunque, ah mi raccomando Mi sei cagato sotto Sì, 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 ma infatti ho urlato che mi sono fatto male alla gola Cioè proprio ho sputato le tonsille Allora, adesso, ah che bella casa, sentite di già la bellezza di questa casa Ah, ok, allora qua ci sono 16 gradi, 15, non è molto freddo Dobbiamo andare a trovare una stanza molto fredda, Dunisiani Perché chiaramente qui dentro, qui dentro la casa si nascondono i fantasmi e i demoni più terribili Che la storia dell'umanità si siano, ma insomma, avete capito, no? È una casa veramente orribile, brutta E adesso magari dite no, non è vero, Dunis, non c'è nessuno Però, no, adesso guardate, guardate cosa c'è qua dentro E poi mi dite che non è vero Poi dopo però mi arrabbio Eh, scusate, Dunisiani, se mi dite che non è vero ma poi è vero Poi mi arrabbio Eh, 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 no dai scherzo Vi amo, mamma mia, vi voglio bene I bacini, no, che schifo No, come, come state dire che è schifo Cioè, vedi che fa tipo peggio di una strega Di The Conjuring Secondo me È lei È dato alla testa Allora Può essere, può essere Di già C'è qual quadra che non cosa Però allora, dovrebbe essere un video che fa paura Ma noi stiamo tipo ridendo come dei coi Allora Per non dire qualcosa che non si dice Eh, perché qua sto, io mi sono disorientato Ok, perfetto Io sono al piano di sopra Sto cercando Ok, bravo, bravo, bravo Andiamo al piano di sopra Oh, ecco il mo C'abbiamo una prova Eh, che prova c'abbiamo? Cinque Fa cinque cose Cinque puntine Ah, infatti, infatti qua la temperatura è a undici Ah, hai capito bene tu Eh, c'è una La temperatura è a undici Sam, hai capito? Eh, sì Sì, hai capito vero Sam Eh, sì che hai capito Oh, rispondi È arrivata fino a dieci È arrivata fino a dieci Esatto È otto gradi, ok Otto Allora Esatto Fede, dobbiamo anche fare la foto, giusto? Eh, sì Sì, prima Ok, perfetto Allora, quindi Adesso Una prova già l'abbiamo Ok, perfetto Allora Com'è che si chiama? Sandra Jones, giusto Sandra Jones Se ci sei Dacci un segno Eh Eh, è stato un suono Una porta Sì, 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 sì Mi sa di sì Allora Hai premuto Stavi parlando premendo G No, aspetta che tasso è un altro tasso No, no Ma in teoria non Cos'è? No, no, no Devi tenere premuto B per parlare E mi sa di Allora, Sandra Jones Se ci sei Dammi un segno Però Vieni qua Ma c'è la fotocamera qua, scusami Cioè, ce l'abbiamo qua, giusto? La fotocamera No, ne Samu Aspetta Comunque Risponde No, io c'ho la videocamera però Ok, la videocamera Vabbè Ma abbiamo anche la fotocamera di là? Sì Dobbiamo fare una cosa Dobbiamo trovare la stanza dov'è E gli metto la foto La videocamera Ok, perfetto E se fa Tipo le lucette Abbiamo un'altra prova Ok Se fa le lucette Sì, sarebbe Ah, l'ho trovata Ok, bravo Ah, l'ha trovata Al piano di sopra Perfetto, perfetto Quindi, esatto Al piano di sopra Nella stanza del bambino in teoria Perché è l'unica fredda tipo Non so se Non sei premessa Eh, un'altra Qua Ora metto la telecamera Duniziani Duniziani Fate finta di non sentire queste corbellerie Ok Vabbè, ok No, dai qua Non posso passare Perché Ah, perché c'era il letto Pensavo per il lampadario Ah, ho trovato qualcosa nell'armadio Mi ci infilo qua dentro Oddio, sbagliato Fede, ma Io ti ho insegnato a parlare basso nei video Per caso, no? No, assolutamente È stato il mio insegnamento Per caso mi devo dare gli schiaffi da solo Per averti detto questa cosa Assolutamente no Mi le do gli schiaffi da sola Ah, ecco Brava, brava No, qua ci sono 4 gradi Samu È qua, è qua, è qua Per forza Per forza è qua È vero, si è spostato Allora vado a prendere la videocamera La metto lì Ok, bravo E poi andiamo Direi andare nel furgone E andare a vedere se fa le lucette Allora, se fa le lucette No, sai cosa È meglio se io resto qua Perché praticamente Così almeno faccio vedere La metto qui È una persona Il segno Tieni, prendi questo Con questo ci puoi parlare Solo con questo Samu Ma guarda che io ci ho parlato anche Anche in altri Ho lanciato Com'è che mi faccio ad abbassare Samu? È con C Sì, perfetto Fa una cosa Butta una Ah, ok, bene Ok, perfetto Lo prendi in mano Fai tasso a destra E poi tieni premuto B E se ti risponde Significa C'è un'altra prova Ok, perfetto Allora Io chiudo la porta E vado a vedere Bravo, bravo Sandra Jones Se ci sei Dammi un segno Mi pare ci sia Dunesiani qua Nessuno Allora Qua Sandra Jones Sta iniziando a darmi fastidio Sandra Jones Se ci sei Dammi un segno Parla con me Mannaggia Eh Ha chiuso le luci Ed è No, no, no Mi fa cagare questa cosa Questa cosa non va bene No, raga, raga, raga Io mi cago Ehm Ehi Stai, allora Stai parlando basso Questa cosa mi mette più ansia che altro Avevo scordato la telecamera Spenta Sei co No, vabbè Nora Dunesiani, dunesiani No, io Non so dove l'ho messo Ecco, qui l'ho messo È sopra, sopra Adesso accendo Adesso accendo la luce qua Ma è accesa la telecamera Non so perché non funziona In che senso? Boh, vabbè Ehm Allora, donesiani Oh, è qui il fantasma Ah, l'hai visto? Oh, che bella reazione Avete sentito? Oh, è qua il fantasma Adesso metto il libro per terra Se scrive significa che abbiamo un'altra prova Sì, 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 esatto Bravo Ma il generatore dove sta? Domanda Domanda Eh, non ne ho idea Eh, perché qua non ci sono più luci praticamente Ma che c***o Madonna, che spavento C***o Ok, quindi adesso qua lasciamo Vieni, vieni, usciamo Meglio uscire Io sto prima Sì, lasciarlo lì Meglio uscire Perché così almeno Ho capito Dunesiani ci Eh, sì Ci disegna tutti i simboli Brutti Nel paderno Allora Praticamente ora dovremmo vedere Oh, non pensate male I simboli brutti Non sono Qua guardate l'attività è altissima E ha A 7, 8 Eh, ha 6 Che schifo Allora, spero che tu disegni Allora Disegni immediatamente Stupida Sandra Jones Non farmi arrabbiare Io veramente Con chi Con chi fantasmi ho a che fare Io vero Non ne posso più Ah, qua Credo di averla messa Ma lì sì Con la treca Ora guardala Ah, beh, caspita Tu sì che sei capace Di metterle telecamere Molto bravo No, aspetta Fede ha detto una cosa Che non ho Non ho capito niente No, ha ragione L'abbiamo fatto Sì, sì, sì Una, sì, una, sì Giusto Comunque Fai una cosa Daniel Dimmi Appuntati nel taccuino Che abbiamo MF livello 5 Come prova Nel taccuino Mi dice Samu Eh, beh Chissà come si invoca Questo taccuino Premendo Il tasto Un tasto magico Chiamato J Ah, J Oh, grazie mille Come faccio ad appuntare? Allora C'è una freccia E vai a diventare Fino in fondo Ci sono le prove Ok, c'è una freccia Ah, ok Queste sono le prove Evidence found E la prima prova Metti EMF livello 5 Ok, perfetto Perfetto Abbiamo fatto Perfetto Grazie mille Per questo tuo intervento Samu Andiamo a vedere Se ha scritto Le cose brutte Nel quaderno È stato molto prezioso Questo tuo intervento Soprattutto Dobbiamo vedere Le cose brutte Che ha scritto La signorina O la signora Non so Barbara Jones Come caspita si chiamava Ah, scritto Barbara Ah, scritto Vediamo cosa ha scritto Andate vero morite Cosa ne pensi Daniel Beh, insomma Questo è un messaggio Veramente Intimidiatorio Che chiaramente Non ci farà Non ci farà paura Vero Samu No, noi Noi siamo Veri Quando è che usciavo? Domatori Di fantasmi Allora No, non usciamo Guarda Allora Barbara Jones No, com'era Sandra Jones Ah, io me ne vado Tipo se sei solo Mi era uscito Un messaggio strano Allora Sandra Jones Se ci sei Dammi un segno Mi sto cagando Non so se si sente Sì da solo Sto guardando La tricata Ah, beh, grazie Però devo dire Che qua dalla finestra Si vede un paesaggio Molto carino E caspita Veramente bello Vero Sandra Jones Ma una cosa C'è la telecamera Che è troppo verso destra La puoi mettere Verso sinistra Ah, la telecamera Verso sinistra Sì, devi buttare una cosa Devi avere uno spazio Prendi la telecamera E tieni premuto Il tasto sinistro Ok, perfetto Ok, sì, 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 sì Verso sinistra Ho rotto tutto Ok, no, no Ce la faccio, ce la faccio Ripremi il tasto destro Che l'hai spenta Ok, perfetto E la metto Ok, ora c'è Premo F Per posizionarla Fatto Adesso ho preso pure Questa cosa che ho buscato Stai inquadrando la scrivania Come la scrivania? Ma davvero? Eh sì, l'hai messa male Eh vabbè Ma dove te la devo puntare? Verso la porta Ma non ci vedi niente Ma non ci vedi niente Io come faccio ad alzarmi? Dai, che problemi ho in questo gioco? Allora Ok, perfetto Adesso girati Ma prova a parlargli Digli per esempio Quanti anni hai Fagli un po' di domande Eh, magari un attimo Che adesso sto Sto facendo questa cosa Molto importante Che è quella di posizionare Una cosa Ok, perfetto Allora Sandra Sentiamo Sandra Jones Quanti anni hai? Io ho pensato Che comunque dovremmo fargli Una foto al quaderno Perché così abbiamo la prova Capito? Fa una cosa Falle arrabbiare Falle incazzare Chiamala Sandra Jones Eh, non si può dire Questa parola brutta Ah, eh Comunque Chiedo veia Sì Cos'è che chiedi Veia Ah, ecco Scusa Sandra Cos'è che devo farla Cioè, devo chiamarla Sandra Jones Sì, Sandra Jones Ma l'ho già fatto 20 volte Sandra Jones Sandra Jones Sandra Jones È Sandra Jones Caspita Sandra Jones Sandra Jones Aspetta che la chiamo anche in inglese Sandra Jones Oh my God C'è fede che qua Sì, sì Arrabbia Tipo troppo No, t'hai zitta Però a chiedergli dove sei Allora Sandra Jones Dove sei? Non sai parlare Ma guarda che il gioco usa il riconoscimento vocale Devi dirlo bene Se no non lo capisce Maria delle rose Sandra Jones Dove sei? Ma dai, ma Sandra Jones Ma dai, ma Santa Marianna Vabbè, senti Io mi sto rompendo le Può buttarsi che non risponde Ma infatti Ma allora Ha buttato Ha buttato Hai visto fede Ok, perfetto Mi ha dato un segno Sandra Jones Parla con me Samu Arrivi proprio al momento giusto Che cosa ha detto? No, non ha detto niente Però praticamente Ha fatto muovere Uno dei giochi del bambino Secondo me Potrebbe essere anche una bambina Ora che Hai una prova Mi faccio una foto Cioè nel senso Ci dà punti Una foto Allora Qua, qua, qua Questa roba qua Era sera mossa E poi magari fai anche una foto al quaderno Questo cubo Sì, quello cubo blu Che non è un cubo Comunque Sembra veramente È la madine No, no Sandra Jones Vai a quel paese Allora Fede Parla forte prima di tutto Poi Avete visto Allora La telecamera ha ripreso Tutto Tutto ha ripreso Ha ripreso che ha chiuso la porta Giusto Samu? Sì Ok, perfetto Speriamo di Sì Potrebbe essere Un mancino Un uomini Perché È aggressivo È aggressivo Esatto Sì Un mancino Un uomini Vabbè Ora posso aprire la porta Neanche c'ha problemi Vero? Ok, perfetto Io direi che comunque Possiamo tornare nel furgone Abbiamo completato tutto Ma perché Abbiamo due prove Abbiamo due prove Cioè Allora prima di tutto Spegniamo questo MF No no raga Non lo so Spero di no Comunque Secondo me Fede non si sente in questo video Si sente solo un rumore sottofondo Cioè spero che Tu di questa cosa Ne sia completamente consapevole Fede perché Non si sentirà niente Ma che sta facendo Non ne ho idea Una cosa molto inquietante Però Cioè secondo me Sono stato posseduto Sì Eh esatto Giusto Eh quindi abbiamo completato Questa Cioè niente Allora dobbiamo Ok Ah il crocifisso ci serve Eh però non ce l'abbiamo Eh non ce l'abbiamo È vero Siamo poveri Potremmo provare a mettere Oni come fantasma Perché Oni è aggressivo Allora Oni Bell'idea Io stavo guardando Doniziani in questo momento Il timer che ce l'ho Sotto la scrivania Giustamente perché Io sono una persona Molto intelligente E lo metto sotto la scrivania E non sulla scrivania Perché chiaramente Sì Vabbè questo è Quindi dobbiamo Scoprire che tipo di fantasma Ok Poi Il crocifisso Quello là E poi Insomma Fare Ok Ah il sensore di movimento E non c'avevamo manco quello Ma scusami Eh no no Ce l'abbiamo questo Già l'abbiamo fatta questa missione Però non l'ha segnata E come si permette Scusa Chi è che gliel'ha detto Di non segnarla Domanda No perché questa cosa Non è Non è Non è Non è Non è assolutamente Ammissibile Eh Non lo so Dobbiamo Dobbiamo sgridare Sandra Jones Come ti permetti Ah andiamo A provocarla Sì Adesso Dai andiamo Altrimenti non si può fare così Eh Scusami Facciamo anche la foto Ah davvero Allora Sandra Sandra Jones Come ti sei permessa Sandra Jones Ah ma tu si sente la doppia voce Tu non lo farei mai più Perché sennò si sente la mia Doppia voce È veramente orribile Eh Dov'è Sta attaccando Non ho idea Sì 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 Sta attaccando Dimmi se la vedi che gli faccio la foto Allora Vediamo se è qua Però io mi sto scagazzando Eh Sta facendo bim bum bam Con la luce Hai visto Oh è qui È qui Sta strisciando Nelle scuole Maria delle rose Ah Santa madonna No 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 È la fine Che fai Oddio Ti sta strozzando Mi ha strozzato È stata la fine Oh madonna mia Eh Passiamo Non puoi urlare Perché è notte Raga però Io sono morto Sono morto Mi sa Cioè è vero Se vedo tutto blu è che sono morto Basta 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 Esci Esci Dimmi se è quello Il C'è l'oni La come caspita L'avevi chiamato Dimmi Allora Secondo te Un revenant Un ombra O un oni Ombra Non credo Dipende da quello che fai Io non Aspetta Come Ah j Ok vediamo Allora praticamente Può essere anche un fantasma Eh può essere Veramente spesso può essere di tutto Allora Ghostware No Ouija Che stava strisciando Forse un'ombra Ah Ghostware Vediamo Perché allora in teoria Le ombre stanno da sole Non lo so Aspetta Ora provo a leggere L'oni sono cugini dei demoni E Diciamo Hanno una forza estrema Diciamo Si sono sentiti Diciamo Delle Delle voci Su loro Che diventano Più attivi Quando Ci sono Quando si prega E infatti c'è Il crocifisso Per l'oni Cioè Non so Pregare Il crocifisso No E' per fermare Quello Aspetta lo spettro Vediamo Oh come ti permetti di prendermi in giro Io vero è sciocco basito Ad unisiano Che è pazzurdo Basta Qui dice che gli spettri Non toccano Non toccano mai il sole Come fanno a camminare Non so Questo è un dilemma Veramente Non so se è lo spettro Vabbè mettiamolo in una casa Perché adesso dobbiamo capire Sì dai Quindi allora Allora Revenant Non penso Ogni nemmeno Provo spettro Ombra Si deve andare in fondo Ok Ombra dici E metti tipo di fantasma Ombra Ok Ho fatto una cosa strana Gene Revenant Shade Ok eccolo qua Ah perché tu ce l'hai in In italiano vero Ok perfetto Fatto tutto Adesso in teoria Possiamo partire Sam Sei contento Io sono un fantasma Sono dietro di te Adesso ti entro Eh io non sono tanto contento Che sei morto Eh beh 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 Ma adesso guarda che Proteggiti il sederino eh Ora ma Guadagno una miseria Perché non è quello il fantasma No speriamo Cosa E quindi Ah era un Revenant Era un Revenant Vabbè Beh diciamo che no Sam È stato abbast... Cioè siamo stati comunque bravi Dai su E beh dai Almeno non sono morto Abbiamo fatto cagarci Completamente Allora la prossima volta Dobbiamo Dobbiamo Capire Chi è il fantasma No perché Duniziani noi abbiamo questo Almeno io ho questo problema In fasmofobia Non ce ne azzecco mai una Un fantasma Una volta un fantasma Mai È una roba pazzesca Invece se io dovessi tipo giocare Ma voi volete giocare a Terraria? Cioè dico Volete Vorreste vedere un video di Terraria? Non so se vi piacerebbe Io proverò a portarlo una volta Non so perché Mi è venuta questa voce nasale Tipo A portarla Duniziani Sto parlando da una radio E nel sottofondo Si sente Una strana voce Potrebbe essere Un revenant Potrebbe darsi Come potrebbe Non darsi A voi La decisione Tarissimi telespettatori E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.